Eccoci di nuovo in diretta per questo nostro buongiorno Friuli, vado subito a presentarvi i due nostri ospiti di questa prima parte del nostro approfondimento, Massimo Campazzo e Pierluigi Porazzi, buongiorno e benvenuti. Benvenuti nella nostra trasmissione del mattino, un'ora un po' inusuale per te Massimo, anche per Pierluigi che avevamo visto ospite Massimo nelle tue trasmissioni sportive, un'ora inusuale non per parlare di calcio ma per parlare di un libro che avete appena scritto a quattro mani, domani uscirà in tutte le librerie e noi oggi vogliamo raccontarvi qualcosa su questo lavoro che avete fatto assieme Una vita per una vita. Il titolo tra l'altro, come abbiamo visto anche sui quotidiani di oggi, è una storia che ha anche qualche legame, più di qualche legame con l'attualità. Tra poco vi diremo tutto, vi racconteremo, non tutto perché altrimenti si toglie il piacere della lettura. Prima però saluto anche Maurizio Ferrari. Ciao Maurizio. Buongiorno Angela, ho appena sbloccato la nostra postazione web, dunque siamo pronti anche con le nostre notizie sul fronte computer, con tanti momenti anche dal mondo del web. Ovviamente saluto anch'io Massimo che ogni tanto mi vuole lasciare in trasferta, ma invece mi riaccoglie qui in studio. Non ce la faccio. Anche stavolta. Devo mettervi in un libro per lasciarti là, voglio dire. Benissimo, non uccidiamolo però nel libro, non sono Maurizio, lasciamolo là. E vabbè, voglio dire. Che brutti auguri di prima mattina. Sono già le otto, già sono le otto. Allora, vedo già pronto per il nostro collegamento meteo, Sergio Nordio. Buongiorno Sergio. Ben ritrovati. Questo è il momento delle previsioni del tempo, lo dico anche ai nostri ospiti. Sergio, come andrà la giornata di oggi sul fronte meteo? Una giornata ancora decisamente stabile, con sole, direi, insomma, anche se un sole invernale. Stanotte ancora temperature sotto zero, dappertutto, in pianura, meno tre, anche meno quattro localmente. Valori non tanto bassi in montagna, c'è stato un po' di inversione termica e un po' di velature durante la notte. Quindi il tempo è stabile, la tendenza ad avere forse delle locali foschie e delle nebbie la prossima notte sulla bassa pianura verso il Veneto. Domani qualche nuvoletta in più, ma tutto sommato in montagna ancora cielo in prevalenza sereno. Più nuvole verso le zone orientali, soprattutto fra Gorizia e Trieste. Un peggioramento in arrivo nella giornata di venerdì. Quindi probabilmente avremo delle piogge, un peggioramento abbastanza veloce, quindi dal sole di oggi e anche di domani passeremo al cielo coperto venerdì. Piogge sparse, probabilmente più abbondanti sulle zone orientali, neve in montagna a partire dai 600-700 metri di quota. Questo fronte che arriva venerdì poi se ne va via abbastanza velocemente, quindi avremo poi nella giornata di sabato un miglioramento, però nuovamente con temperature in discesa. Insomma, quindi un inverno che si sta dando da fare. Eh sì, un inverno quest'anno è arrivato un po' in anticipo rispetto al previsto, però la neve in montagna ci sta. Chissà se nei prossimi giorni arriverà anche in pianura. Ci aggiorneremo su questo, Sergio, perché si sentono già delle previsioni non proprio buonissime per la prossima settimana. Ma andremo con ordine, ci aggiorniamo nei prossimi giorni, intanto godiamoci la bella giornata di oggi. Grazie a Sergio Nordio, buona giornata e buon lavoro. A tutti, ciao. Ciao. E' venuta l'idea, da chi è partito? Allora, con Pierluigi ci siamo conosciuti proprio per un ciclo di trasmissioni di Udinese TV dedicata ai libri di Natale e alla libreria Friuli di Udine. Tra i vari scrittori che ho avuto piacere di intervistare, di cui ho presentato le creazioni di romanzi, c'era Pierluigi. Mi sono piaciuti moltissimo i suoi libri, la trilogia ambientata a Udine e zitto zitto dopo un po' sono andato da lui. Io gli ho detto, senta, gli davo delle, senta. Io ho scritto questo, ho una mia trama, una mia creazione molto artigiannale. Secondo lei può venire fuori un libro e può venirne fuori qualcosa da questo, dal progetto assolutamente grezzo e artigianale. Insieme a Pierluigi ci abbiamo lavorato sopra ed è venuto fuori questo. Questo è una vita per una vita, quindi l'idea, diciamo così, di Massimo Campazzo, la trasformazione in una trama più complicata, più complessa. La Crisani da farfalla è opera di Pierluigi Porazzi che, come sicuramente saprete, ha già scritto. Altri libri gialli, ne abbiamo parlato anche noi nelle nostre trasmissioni. Pierluigi, ti credo, cosa ti ha convinto ad accettare questa proposta di Massimo? Beh, innanzitutto l'originalità della trama perché riguarda temi di estrema attualità come il bullismo, su cui è incentrata la vicenda del romanzo, perché appunto il protagonista dell'assassino è colpito da un atto di bullismo nel suo passato e quindi da lì prende via una vendetta di cui non diciamo molto di più per non svelare ovviamente la trama del romanzo e non togliere il gusto della lettura ai lettori, ma uccide in modo molto originale. Quindi già questa originalità del suo modus operandi mi aveva affascinato. Poi l'amicizia e la simpatia con Massimo ha contribuito a decidermi, a collaborare a questo progetto e quindi a portare avanti questa idea che poi è arrivata alla pubblicazione, quindi fa un certo effetto, devo dire, da una chiacchierata informale, arrivare ad avere il libro come oggetto fisico tra le mani, tra l'altro pubblicato da una casa editrice che si chiama Pendragon di Bologna, nella collana Glam, che è diretta da due scrittori che conosciamo molto bene, che sono Gianluca Morozzi e Alessandro Berselli, due scrittori molto validi anche loro. Ci siamo rivolti a questa casa editrice proprio perché Gianluca Morozzi è stato uno dei primi a credere in questo romanzo e si è dimostrato molto entusiasta e quindi ci siamo affidati a lui, a loro, perché quando un editore si dimostra entusiasta nel tuo progetto è una cosa impagabile, che è meglio un editore magari meno importante ma più entusiasta, piuttosto che un ammondadori che però non investe nulla in tema, si imita semplicemente a stampare il romanzo e a distribuirlo nelle librerie. Certo, non crede nel tuo progetto, non è coinvolto a te. L'altro elemento di grande attualità in questi giorni appunto è il fatto che come arma degli omicidi è stato utilizzato nel romanzo Il Taglio, che è di grande attualità perché abbiamo proprio in queste ore, c'è stato uno sviluppo nelle indagini che riguardano gli omicidi, sì non gli omicidi, le morti sospette avvenute in località Varmo, in Friuli, appunto gli avvalinamenti da taglio, si è scoperto proprio ieri che il taglio era contenuto in una serie di erbe che venivano utilizzate in modo casalingo per fare una tisana e quindi da lì bisogna vedere dove sono state prese queste erbe, chi le ha raccolte e come sono state contaminate dal taglio. Comunque è uno sviluppo che è importante ovviamente per gli inquirenti per determinare come sono avvenute queste morti che finora non sono ancora state chiarite del tutto. È sicuramente un caso che, come abbiamo detto prima, anche vedendo le notizie di oggi sui giornali, è di strettissima attualità la vostra idea di inserire appunto anche il taglio in qualche posto di questa trama, di questa storia. È sicuramente stata un'idea venuta in tempi non sospetti. No, infatti la stesura del romanzo risale a più di un anno fa perché ovviamente magari chi non ha mai pubblicato non lo sa però prima di pubblicare un romanzo, prima che il romanzo sia pubblicato ci vuole ovviamente un certo numero di mesi perché l'editore lo valuti, lo legga, poi c'è il lavoro di editing, di correzione di bozze quindi questo romanzo è stato scritto nell'anno scorso quando ancora non si parlava di taglio, non si sapeva neanche cosa fosse a parte gli addetti ai lavori e i lettori di gialli perché era stato già utilizzato in qualche romanzo giallo. Noi l'abbiamo utilizzato perché ci serviva questa fattispecie di veleno che ha dei sintomi molto particolari che sono riconducibili anche da altre patologie e quindi non è un veleno che sia facilmente diagnosticabile come avvelenamento perché i suoi effetti sono ritardati nel tempo, quindi ci vogliono alcuni giorni prima che si manifestino. E quindi diventa sempre più difficile andare a trovare l'origine e la causa di questo avvelenamento ed è un po' anche la difficoltà che hanno incontrato gli investigatori proprio in questa indagine. si era parlato di tante ipotesi, di tante possibili origini di questo avvelenamento nella casa di Santa Marizza di Varmo dove avevano soggiornato i del Zotto in realtà appunto questi ultimi sviluppi ci dicono che la causa di questo avvelenamento da taglio probabilmente si trovava nell'abitazione di due delle persone risultate poi avvelenate che in questo momento sono in ospedale. Abbiamo svelato un altro particolare di questa storia, una storia che dicevamo è ambientata a Udine. Pierluigi, un po' come anche gli altri tuoi romanzi che ci portano a scoprire questi luoghi della nostra città che possono essere teatro anche di fatti poco belli, poco piacevoli come anche purtroppo la storia ci insegna, ci racconta. Possiamo dire solo da dove ha origine questo romanzo? Sì, ma direi che questo romanzo è ancora più dei miei precedenti, è ambientato molto a Udine, nel senso che Udine come città si percepisce molto nella lettura. Anzi, tutto ha inizio a Liceo Stellini, quindi è stata anche questa un'idea di Massimo perché lui ha frequentato lo Stellini e quindi abbiamo deciso di ambientare l'inizio di questa storia, in pratica l'atto di bullismo che poi si riverbera nel tempo, ha inizio proprio durante una gita scolastica di una classe del Liceo Stellini. Tutto parte dunque da qui, una storia assolutamente inventata, ma non c'è niente di reale, precisiamolo. I fatti sono assolutamente inventati, i luoghi sono quelli di Udine, ma ovviamente ci servivano come sfondo alla narrazione. Sicuramente. Maurizio, non so se su internet hai trovato qualche curiosità sui libri gialli, perché tra l'altro Pierluigi tu hai ricordato la realtà che pubblica questo libro, hai ricordato anche la collana, è una casa editrice specializzata in libri gialli, se non sbaglio? No, pubblica in realtà molti generi di romanzi. Questa collana Glam è specializzata più che altro in autori che propongono cose nuove o diverse da letteratura di altro genere, quindi pubblica sia romanzi gialli che horror, ad esempio è uscito anche per la stessa collana, è un romanzo di Trenta Lance, l'attore, l'ex attore Pordo che è diventato noto per aver partecipato all'isola dei famosi, i stessi Gianluca Morozzi e Alessandro Berselli hanno pubblicato nella stessa collana, quindi è una collana trasversale, quindi pubblica un po' tutti i generi. Se non avete mai letto nulla di Morozzi, leggetelo, se siete appassionati di gialli, la vostra vita non sarà più la stessa. Sono veramente belli forti, ma scritti molto bene. Maurizio, vengo da te. C'è un articolo da Espresso Repubblica che si pone l'interrogativo, perché ci piace il thriller? È una palestra emotiva a parlare, il professor Massimo Locatelli, autore di Psicologia di un'emozione, thriller e noir dell'età dell'ansia, che illustra i meccanismi che ci attirano nella lettura dei gialli. Con una tesi diventa bestseller la storia che sa cogliere un timore universale. Quindi questo è il pensiero che viene dedicato nel sito dell'Espresso, una curiosità che ovviamente viene rimarcata. E poi ovviamente c'è anche una specie di classifica che magari sfoglieremo nella prossima parte, perché così possiamo chiedere anche ai nostri ospiti magari qualche consiglio. Se hanno letto qualche libro giallo di quelli tra i più venduti, tra i più consigliati, chissà. Io ho in mano appunto il libro di Pierluigi Porazzi e Massimo Campazzo. Il protagonista di questo libro è sì, questo ragazzo che appunto è stato vittima, come dicevamo, di un gesto di bullismo, ma è anche questo Ispettore Cavalieri. Possiamo raccontare qualcosa di questa figura che, insomma, nei romanzi, nei libri gialli, anche nelle serie televisive, la figura dell'Ispettore è sempre una figura un po' particolare, un po' carismatica. In questo libro che ruolo ha? A chi lo chiedo? Vedete voi. Pierluigi, dici tu, come hai tratteggiato questo Ispettore? Beh, diciamo che è un personaggio molto particolare. Non possiamo svelare anche qui molto perché ha un ruolo, oltre che di indagine, anche un altro ruolo all'interno della vicenda, quindi non possiamo svelare certi particolari della sua personalità, della sua vita privata. Diciamo che è un personaggio abbastanza particolare, un po' diverso dal solito investigatore, quindi ha qualche problema personale, ha qualche difficoltà anche lui nella vita. È un personaggio tormentato. Sì, è molto tormentato, quindi è un personaggio che ha, per certi avversi anche un certo fascino, una certa profondità anche psicologica, ed è un personaggio, non è il classico investigatore che risolve così il caso con un colpo di gene, diciamo che ha bisogno di indagare, di indagare a fondo, di scoprire le prove. Poi non diciamo oltre perché ci sono parecchie ambiguità nel romanzo, quindi è meglio non andare oltre una descrizione che può sembrare superficiale, ma che ovviamente è finalizzata a non rivelare particolari che potrebbero compromettere il piacere della lettura. Eh, certo. Se posso aggiungere una cosa, Angela, ci sono due temi che si agganciano. Oltre a quello del bullismo, che è centrale, purtroppo è centrale, passano gli anni e continuano sempre a parlarne di una piaga per chi ha figli, io non ne ho, però sento veramente raccontare cose bruttissime e che continuano a perpetrarsi, passano gli anni, passano gli scenari e continua a essere qualcosa di irrisolto. A questo si aggancia nel libro il tema della diversità, ossia le persone che magari anche non hanno niente di anomalo, ma semplicemente per timidezza, perché per note caratteriali che li isolano un pochettino dagli altri, vengono colpiti e vengono messe in disagio e le reazioni sono le più svariate. Per ognuno dentro di sé, nella parte più nera e più cupa della propria anima, cosa trova quando è messo in un angolo? Certo, come reagisce? E' anche sicuramente questo un argomento importante, un argomento di attualità. Siamo anche agli altri di bullismo, anche via internet, che sono purtroppo venuti dalla ribalta negli ultimi periodi tra quella catena di suicidi denominata Blue Whale, Balena Blu, che non si sa poi se fosse reale o meno, anche quello scherzo atroce che si chiama Pule Pig, per cui invitano, non so se ne avete sentito parlare, invitano una persona fingendo interesse amoroso in confronto di questa persona, questa magari si sposta, addirittura una ragazza è volata fino in Olanda per incontrare un presunto spasimante, poi è arrivato un messaggio che in realtà era solo uno scherzo, e quindi questa è rimasta ovviamente, come si può capire, è rimasta ferita da questo scherzo assurdo e terribile, che gioca poi sulle debolezze e sulla fragilità delle persone più indifese per certi aspetti a livello psicologico, quindi anche qui torna sempre anche al tema della diversità. Purtroppo i fatti di cronaca sono spesso fonte di ispirazione, anche per storie da raccontare, che purtroppo appunto sono storie reali. Sfogliando le prime pagine del libro, troviamo la dedica, è importante anche questa, a Giancarlo Rosso con un ricordo e un ringraziamento speciale, sappiamo che è sempre con noi, anche se ci ha lasciati troppo presto, ovunque sia, lui chiamava i libri e la cultura leggerà queste parole, questo romanzo, come faceva sempre. Questa è la prima parte dei ringraziamenti. Giancarlo Rosso era uno dei librai, possiamo dire il libraio forse, di Udine, della libreria Friuli, è scomparso di recente, e diciamo che è stato proprio lui che vi ha fatto incontrare, possiamo dirlo. Eh sì, noi ci siamo incontrati nella sua libreria, con sua figlia, con Sara, Sara che ci ha permesso di incontrarci, perché lì lei ha voluto questa rubrica su Dinesi TV, e ancora adesso, Sara è contentissima quasi di tenerci a battesimo, voglio dire, c'è un rapporto molto forte con la libreria Friuli. E poi l'ultima parte della dedica è a tutti quelli che hanno creduto in noi, e anche a quelli che non hanno creduto in noi, entrambi ci hanno permesso di arrivare dove siamo. Esatto, esatto. Qualcuno è anche finito nel libro. Non svegliamo quale parte ha avuto la persona che è finita nel libro. Maurizio, vengo da te. Magari, visto che abbiamo parlato di fatti di cronaca, che hanno ispirato anche qualche parte, qualche porzione del libro, direi che possiamo fare il consueto giro con la cronaca, andando con le notizie che arrivano da questa mattina. Allora, partiamo come al solito, Presidente Donald Trump catalizza sempre l'attenzione, quando arriviamo a quest'ora, Israele con la Casa Bianca che dichiara Trump annuncerà Gerusalemme capitale, nelle prossime ore la riconoscerà, lo confermano fonti ufficiali della Casa Bianca, aggiungendo che il Magnate darà indicazione al Dipartimento di Stato di avviare l'iter per il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv. Il riconoscimento, secondo l'amministrazione Trump, rappresenta una realtà storica più che una presa di posizione politica. Quindi questo è il pensiero di Donald Trump. Poi una notizia che riguarda il Bitcoin, con un nuovo record, la criptovaluta supera i 12 mila dollari, quindi continua la sua corsa e vola un nuovo record, c'è attesa sul primo future, che potrebbe aumentarne la legittimità presso gli investitori, sarà lanciato il 10 dicembre. Serve cautela, ha ricordato la Fed qualche giorno fa, se il loro uso divenisse diffuso, potrebbero creare minacce per il sistema finanziario. Poi due notizie sul fronte dell'ambiente che spaventa, il ciclone Occhi che devasta l'India, 39 morti e 167 dispersi, una situazione che viene definita sempre più drammatica, in mare, sono stati salvati finora 556 pescatori. E poi c'è un incendio anche in California con il sindaco di Los Angeles che dichiara pronti ad evacuare il pericolo maggiore. In questo momento è rappresentato dal fumo, spinto dal vento nella metropoli californiana. Quindi due situazioni decisamente molto molto delicate. Esatto, da una parte l'acqua al vento, dall'altra al fuoco mi stanno minacciando questi due paesi e poi la decisione di Trump di spostare l'ambasciata, date la viva, a Gerusalemme che sta creando molto scalpore. Ritorniamo però, prima di salutarci al nostro libro, al libro di Massimo Campazio e Pierluigi Porazzi, Una vita per una vita, dicevamo prima della presentazione a gennaio alla Libreria Friuli e nelle altre librerie. Il prossimo venerdì, invece, non venerdì 8, venerdì 13 ci sarà la presentazione ufficiale al Cinema Visionario. Ci raccontate un po' quello che accadrà quel giorno? Mercoledì 13. Mercoledì 13, pardon. Sarete in buona compagnia perché vediamo l'articolo di oggi sul Messaggero Veneto perché quel giorno sempre al Visionario ci sarà anche la presentazione di un film di Styler, la moglie di Sting, Spinotti, la grande sorpresa. Infatti hanno chiesto, ma ci sono anche Campazio e Porazzi, allora veniamo. Bene, bene, bene. Chissà, magari, forse, se hai dato una copia del libro a Spinotti, alla regista, chissà che magari non possa nascere qualcosa sul fronte cinematografico. Sicuramente gliela daremmo. Sono incontri casuali, tante volte, che segnano il destino e il futuro. Mercoledì 13 si tiene il penultimo evento di Cultudine, un'associazione che ha organizzato da Cultudine, che è un'associazione di cui faccio parte insieme allo scrittore Nicola Schert e la scrittrice Maria Elena Porzio. E, appunto, mercoledì 13 presenteremo il libro di Angelo Floramo, il nostro romanzo e il romanzo di Nicola Schert, Giallo Interiore. Poi a seguire ci sarà il Neuro Show di Davide Anchisi, che ha riscosso un grande successo anche nelle precedenti serate al Visionario, che riguarda la manipolazione della realtà. Davide Anchisi è un professore, un neurofisiologo, e quindi attraverso microesperimenti scientifici, dimostra come sia fallace la percezione della realtà, come sia ingannabile la percezione che abbiamo della realtà da parte di, anche mass media, se vogliamo, oppure da parte di economia, politica. Tutto può concorrere a dare facilmente una diversa percezione di ciò che è reale. E noi presenteremo il libro verso le 18.45, ci introdurrà Gian Paolo Polesini, noto scrittore e giornalista del Messaggero. Il Messaggero Veneto, che si occupa di solito... E quindi diamo appuntamento a tutti presso il Visionario il 13 dicembre per un'anteprima, per poi presentare il romanzo in libreria, alla libreria Friuli, se non ricordo male, il 19 gennaio del 2018, in quanto a dicembre, dicembre è un mese in parte in cui in libreria non si fanno di solito presentazioni. Ecco, le librerie sono sempre molto affollate nel periodo natalizio. Siamo in chiusura a questo punto, lasciamo in sospeso, Maurizio, la classifica dei 20 libri. Consigliamo Una vita per una vita, come primo libro giallo da leggere da domani nelle librerie. Una battuta finale sul ricavato della vendita di questo libro. Andrete da qualche parte assieme, una vacanza? Senz'altro, a Nimis. A Nimis, Massimo? Si guadagna scrivendo libri, al massimo potremo andare a Nimis. Sì, però non Upper East Side. No, Nimis di sotto, Down Side. Primis Down Side, sì. No, scherzi a parte, se appunto al netto delle spese, al netto di tutto quanto, avanza qualcosina, la nostra intenzione, per Luigi del sottoscritto, è di donare una parte del ricavato, una parte consistente del ricavato, se ci sarà quindi comprato, a Udinese per la vita. Esatto. Ok, benissimo. Ringraziamo allora Massimo Campazzo e Pierluigi Porazzi per essere stati con noi questa mattina e in bocca al lupo per questo primo libro scritto a quattro mani. Noi ci fermiamo adesso per un attimo di pubblicità, poi continueremo la nostra mattinata assieme parlando di giochi, dell'archivio dei giochi che è stato inaugurato poco tempo fa, pochi giorni fa, a Udine. A tra poco. Bentornati in diretta dal nostro studio di Udine per proseguire questa nostra mattinata assieme parlando di giochi in questi ultimi 20 minuti del nostro Buongiorno Friuli perché qualche settimana fa è stato inaugurato a Udine l'archivio italiano dei giochi. Cercheremo di capire cos'è esattamente assieme al nostro ospite Dario De Toffoli, buongiorno e benvenuto in studio il coordinatore di questo progetto. Saluto anche Maurizio Ferrari che è sempre qua con noi. Ciao Maurizio. Buongiorno Angela. Pronti anche in questa seconda parte a tirar fuori qualche curiosità dal mondo del web? Sicuramente. Allora, l'archivio dei giochi è un paradiso potremmo dire per tutti i bambini, adulti perché ovviamente il gioco non ha età e questo archivio è sorto nella zona dell'ex macello di Udine l'abbiamo imparata a conoscere anche nei nostri approfondimenti una zona che passo dopo passo il comune sta recuperando sarà la sede del Museo Friulano di Storia Naturale ed è già la sede di questo archivio. De Dovoli ci spiega cos'è che così capiamo vediamo scorrere alle sue spalle anche a schermo intero un po' di immagini dell'archivio ma in due parole cos'è questo archivio? L'archivio è il tentativo di dare valore culturale e sociale al gioco dare valore che merita praticamente è un'istituzione che esiste in altri paesi non esisteva in Italia in cui noi sostanzialmente raccogliamo sì fisicamente anche dei giochi e dei libri sui giochi ma stiamo sviluppando un portale che sarà unico in cui metteremo tutti i dati di tutte le pubblicazioni sui giochi editi in Italia di tutti i giochi editi in Italia sostanzialmente una sorta di biblioteca virtuale specializzata per recuperare il valore proprio sociale e culturale e molta attenzione faremo anche a tutte le azioni di prevenzione sul zardo patologico per esempio perché noi pensiamo che giocare il gioco sano sia di per sé una prevenzione verso le degenerazioni dell'azzardo e quindi in questo senso avrà anche un valore sociale inoltre essendo a Udina essendo Udina la città che ci ospita faremo anche tutta una serie di eventi e già abbiamo cominciato a farne alcuni incontri laboratori convegni proprio per esplorare i vari aspetti del gioco sia per i bambini a partire dai bambini laboratori per i bambini per esempio fino alla terza età perché è molto importante il gioco può essere usato anche per tenere allenata la mente sicuramente anche le misoglie diciamo che giocare per tutta la vita migliora la qualità della vita e cerchiamo di dare questo messaggio di aiutare questo una medicina che non fa male è una medicina piacevole sì va tanto va tanto allo sport tenere la forma fisica ma anche la forma mentale ha la sua importanza sicuramente il gioco aiuta a tenere allenata la nostra la nostra mente diceva che questo è l'unico archivio dei giochi presente in Italia quindi per Udine è un vanto possiamo dire io spero di sì io sono tra l'altro contentissimo di averlo potuto fare a Udine perché ogni volta che vengo a Udine io veramente respiro un'aria diversa e mi sento bene lei arriva da? da Venezia da Venezia però veramente qui a Udine mi sento bene non lo dico solo perché sono Udine avete un sindaco meraviglioso appassionato di giochi sicuramente avete una ludoteca bellissima diretta da Paolo Munini in modo eccellente con la quale noi ovviamente non solo dialoghiamo ma collaboriamo addirittura sotto forma di sinergia ci interagiamo uno con l'altro creando proprio una struttura che nel suo complesso può rendere Udine una delle capitali d'Italia del gioco insomma assieme forse a Modena dove si svolge Play e a Lucca dove si svolge Lucca Games insomma certamente come riflessione culturale vogliamo essere al top e allora andiamo a vedere un servizio che ha realizzato la nostra Monica Nardini che è andata proprio nell'archivio dei giochi per cercare di capire medio un po' come funziona vediamo il servizio come potete vedere alle mie spalle abbiamo una piccola parte di quello che è l'archivio in questo momento parliamo di un'acquisizione in questo momento di circa 1500 titoli che vediamo speriamo di riuscire ad aumentare in breve tempo state predisponendo anche un software per agevolarvi nella catalogazione sì questo sarà in realtà il cuore principale dell'attività dell'archivio che sarà quello di appunto di archiviare tutto quello che è il materiale ludico presente a livello italiano stiamo elaborando il software che verrà integrato con i software della biblioteca quindi sarà accessibile a tutte le persone che sono interessate ad approfondire questo argomento e in più ci sarà una piattaforma di crowdsourcing dove chiunque abbia la possibilità abbia qualche pezzo interessante come giochi come letteratura di introdurre il materiale che però chiaramente poi verrà vagliato dalla redazione e introdotto nel database rispetto alla collezione acquisita sono giochi che provengono da tutto il mondo sì provengono da svelate parti del mondo in particolare questi provengono dalla Germania appunto perché è il mercato più grosso più fiorente a livello europeo dove si tiene la fiera più grossa europea che è la fiera di Essen che si tiene di solito nel periodo di novembre sono giochi con delle tematiche particolari? ma in realtà sono giochi che spaziano tutte le tematiche possibili dagli antichi egizi ai romani al futuro a Venezia a qualsiasi argomento che vi possa venire in mente sicuramente c'è un gioco che lo tratta come lasso temporale quando sono stati ideali? ah beh qui abbiamo giochi che vanno dagli anni 70 fino a i recentissimi giochi di quest'anno che percezione ha di questo genere di collezionismo sul territorio beh credo che sia abbastanza sviluppato magari in piccolo non ci saranno collezionisti emblematici però credo che parecchie persone abbiano delle collezioni di giochi consistenti parliamo di centinaia di titoli in tal senso vuole rivolgere un appello anche per una futura tutela anche attraverso l'archivio? ah beh certamente noi siamo ben disposti ad accettare donazioni anche anche semplicemente delle donazioni in custodia cioè siamo disposti a tenere in custodia giochi particolari diciamo edizioni importanti di alcuni giochi se qualcuno le vuole le vuole donare o ce le vuole prestare noi siamo ben lieti di tenerle con cura e poi andremo a vedere anche alcuni di questi giochi un po' particolari De Toffoli ritornando appunto al funzionamento di questo archivio abbiamo sentito adesso che c'è una certa relazione interazione con l'esterno quindi non è un archivio che rimane lì che si può andare a vedere ma si può anche contribuire a migliorare assolutamente vogliamo sfruttare le nuove tecnologie e sostanzialmente questa è un'idea che io avevo da tanti anni però ultimamente con lo sviluppo tecnologico di internet del crowdsourcing eccetera abbiamo pensato che poteva essere effettivamente realizzato perché noi faremo questo portale classificheremo i giochi e le pubblicazioni sui giochi con un sistema molto dettagliato però seguendo tutti gli standard biblioteconomici internazionali di modo che possiamo essere in rete prima di tutto col sistema bibliotecario di Udine e dell'Inter l'Udinese ma poi anche con tutte le biblioteche internazionali e in più sarà un portale diversamente dagli altri archivi aperto a tutti quindi consultabile gratuitamente da tutti da tutti i curiosi ma soprattutto anche gli studiosi del settore e non solo potranno chi è veramente interessato potrà collaborare creare delle schede secondo naturalmente i criteri biblioteconomici che andremo a definire quindi veramente è già è già molta è stato molto interesse nell'ambito diciamo degli esperti del settore che già molti si sono candidati a collaborare ma ci sono degli studiosi quindi dei giochi a livello mondiale ci racconta qualcosa perché per noi è una realtà un po' sconosciuta per dire la verità beh diciamo che il gioco mi piace citare anche Alex Randolph che è un po' uno dei padri degli autori di giochi di cui poi abbiamo uno scaffale dedicato nell'archivio sa che dopo vedremo proprio quello adesso che ci penso si è stato una delle soddisfazioni della mia vita essere amico suo diciamo lui spiegava bene l'importanza del gioco diceva che il gioco un po' come l'arte o la musica è un'attività totalmente inutile ma necessaria per rendere la vita degna di essere vissuta per migliorare la vita e quindi il gioco in sé è fine a se stesso è proprio per migliorare la vita però poi può avere un sacco di ricadute positive tipo l'allenamento del cervello può avere ricadute educative nell'apprendimento e anche in altri ambiti scientifici sempre più aziende e istituzioni usano tecniche ludiche nelle loro attività e questo viene studiato anche a livello universitario infatti avremo fra un paio di settimane un convegno universitario proprio per esplorare il gioco e le possibilità di utilizzo del gioco in varie altre discipline bene allora andiamo a vedere un altro servizio che ha realizzato sempre la nostra Monica Nardini così scopriamo qualche altra curiosità di questo archivio vediamo siamo in un altro angolo dell'archivio di cui andate particolarmente fieri perché? perché è un angolo dedicato a un personaggio molto importante nel mondo ludico Alex Randolph è un autore statunitense che ha viaggiato in tutto il mondo e alla fine ha deciso di trasferirsi a Venezia dove ha dato là il via al premio Archimede che è un importantissimo premio per giochi inediti ed è una figura molto importante perché oltre ad essere un autore molto prolifico parliamo circa 150 titoli di cui qui abbiamo una piccola rappresentanza è quello che ha in realtà dato il via ha inventato il mestiere di autore di giochi di inventore di giochi che prima di fatto non esisteva un mestiere in cui anche il Friuli Venezia Giulia si sta dimostrando in sombra prolifico sì diciamo che il Friuli con la sua iniziativa di Deagi Nord-Est che è una costa di Deagi nazionale nata a Torino un incontro di autori di giochi dove gli autori si trovano fra di loro per provare i loro giochi per provare i loro prototipi e proporli al pubblico e agli editori ha dato il via ad alcuni autori il più famoso in questo momento è Yal Marak che è udinese di nascita che ha fatto della sua passione per i giochi un lavoro adesso lavora per una casa editrice di Milano ed è uscito quest'anno con un gioco molto importante che si chiama Photosynthesis che ha fatto un grandissimo successo quali sono i giochi che hanno più successo hanno delle caratteristiche di base attualmente? no se devo essere sincero no i giochi hanno successo in base a quello che piace al pubblico il pubblico dei giochi da tavolo e dei giochi in generale è talmente ampio che permette a giochi di varie tipologie di diventare giochi famosi di diventare giochi molto importanti proprio perché quello che può piacere a una persona può non piacere a qualcun altro è vero che il digitale in tal senso ha favorito il gioco da tavolo non lo ha sfavorito? assolutamente sì perché il digitale non fa nient'altro che integrare quello che è la voglia di giocare quindi il gioco da tavolo si trasferisce poi nel digitale e diventa un altro modo di giocare alla stessa cosa come ha visto evolversi comunque anche i temi o le modalità di gioco? beh i temi sono evoluti parecchio negli ultimi anni c'è stata un'introduzione importante per quanto mi riguarda che sono i giochi cooperativi cioè giochi in cui tutti si gioca non uno contro l'altro ma tutti contro il gioco quindi si cerca di vincere tutti assieme e può essere questa la nuova frontiera dei giochi i giochi di cooperazione in cui il nemico è comune diciamo un ostacolo comune più che un nemico un ostacolo comune eccolo per esempio il gioco che ha mostrato adesso si chiama Leo è stato ideato da Leo Colovini ed è un gioco cooperativo ha vinto a premi internazionali che è molto simpatico e può essere giocato sia dai bambini che in famiglia con più generazioni insieme è perché la sfida spesso che bisogna vincere anche quando adesso che siamo sotto la caratteristica del mercato direi che in questi ultimi anni con i giochi sta succedendo un po' quello che è successo nei libri si moltiplica c'è una sorta di inflazione dei titoli e dell'offerta diciamo che vengono pubblicati circa 3.000 nuovi giochi all'anno quindi è anche difficile seguire un po' tutto quanto e in un mercato così vasto come nei libri del resto certo può capitare che un ottimo libro o un ottimo gioco passino inosservati ci vuole diciamo per avere successo non basta avere un buon gioco un ottimo gioco ci vuole anche un po' di fortuna e bisogna essere notati come nella vita ci vuole sempre sicuramente in tutto ma i giochi che vediamo nell'archivio che abbiamo visto anche in queste immagini possono essere presi possono essere utilizzati sì adesso abbiamo appena iniziato abbiamo fatto un convegno scientifico per stabilire i criteri di classificazione proprio per mettere a punto un nuovo sistema scientifico per poterli catalogare proprio in questi giorni si sta sviluppando il software sono due aziende a lavoro una di Udine e una di Venezia quindi ci vorrà ancora penso un mese o due prima di poter inserire nel sistema tutti questi titoli ma poi certamente attiveremo dei sistemi che già si possono attivare attraverso la ludoteca certo che ha già un migliaio di titoli in ludoteca e già ha attivato un sistema di prestito e certamente noi i nostri titoli potremo collaborare con loro quindi attualmente il prestito si fa attraverso la ludoteca Maurizio vengo da te sì c'è un articolo di Repubblica di qualche anno fa perché era praticamente il giorno seguente la scomparsa proprio di Alex Randolph che cita alcune delle frasi proprio di quello che viene ritenuto l'inventore della figura dell'invertore di giochi la prima trovo esilarante sapere che quando metto in tasca un normale mazzo di carte mi sto portando a presso 50 o più dei migliori giochi mai inventati questo la dice lunga anche su quello che è lo spirito di creatività che ovviamente deve avere un autore di questo tipo si ricorda un po' in queste pieghe di questo articolo del 2004 la sua vita scomparso 82 anni tra l'altro a Venezia una frase di chiusura un altro passaggio semplicemente credo che fino a quando ci saranno tavoli e gente a cui piace la convivialità del sedervi sia attorno ci saranno giochi da giocare su quei tavoli quindi un aspetto che rimarca proprio quello che è il momento di vicinanza di coesione anche che si crea attorno a un tavolo da gioco esatto quando si riuniscono appunto magari anche generazioni diverse stavamo dicendo prima che la sfida proprio da vincere magari anche adesso sotto Natale quando si va alla ricerca di un gioco è quello di trovare un gioco che metta assieme un po' tutte le generazioni le carte forse sono quelle più semplici più facili le carte sono secondo lei c'è qualche altro gioco così magari diamo anche qualche consiglio le carte da giochi in realtà sono il sistema più versatile perché con una piccola scatolina si possono veramente fare migliaia di giochi diversi come giustamente aveva scritto Randolph alcuni dei più bei giochi che siano mai stati fatti io suggerirei però di se uno vuole comprare il gioco visto che è Natale di non voglio dare proprio un nome un indicazione precisa o sì dai diamo io per famiglia suggerirei Leo che è molto è molto divertente questo leone che ha una criniera un po' troppo folta deve andare dal barbiere ma nel viaggio nella foresta si mette a chiacchierare con gli animali non arriva mai in tempo e bisogna fare in modo che arrivi in tempo e tutti insieme dobbiamo aiutarlo ad arrivare dal barbiere altrimenti questa criniera però se dopo uno vuole suggerirei per una volta di non comprare i soliti monopoli io risico con tutto il rispetto che ho per monopoli e risico che sono degli archetipi e delle cose importantissime ma cerchiamo di cambiare cerchiamo di prendere qualche prodotto più nuovo perché veramente il mercato ne offre ne offre tanti ci sono dei party games ci sono dei giochi di strategia ci sono dei giochi ecco magari cercate di farvi consigliare sul livello di difficoltà che andate a cercare perché se voi volete passare una mezz'oretta lapida è inutile che vi andate a comprare un gioco che ci vuole due ore e un'ora solo per leggere le regole insomma cercate un attimo di non prendere una scatola a caso ma di capire quello che tipo di divertimento volete trovare e trovare il gioco adatto prendetene di nuovi e non i soliti classici e non i classici magari si può fare un salto anche all'archivio dei giochi che è aperto il lunedì pomeriggio adesso è aperto è a disposizione però spesso ci siamo sempre anche su appuntamento e comunque organizziamo spesso eventi anche per tutto il mese di dicembre lì faremo incontri con esperti faremo convegni laboratori in ludoteca ce n'è per tutti i gusti quindi può essere anche l'occasione per avere qualche utile consiglio andiamo a vedere allora un altro servizio che ha realizzato Monica e che ci mostra qualche altro gioco anche le carte non tramontano mai tantissimi mazzi le collezioni raccolte anche in questo spazio si parla un po' di cinema ma anche di storia poi insomma le belle donne non mancano no esatto abbiamo fatto una piccola raccolta di quello che può essere un esempio di un sistema di gioco perché giustamente le carte non sono un gioco non sono un sistema per giocare e qui potete vedere una collezione di carte di merchandising piuttosto che carte geografiche dedicate a città campionato del mondo di calcio James Bond alcune cose particolari tipo i most wonder quindi i più famosi ricercati all'epoca della guerra del golfo e una particolarità a cui teniamo molto è questo mazzo dedicato alla fabbrica di carte bolognato che era una fabbrica attiva attiva a Udine che era di Matt Cartier che il comune ha pensato di riproporre in una veste moderna un aspetto della storia locale poco conosciuto assolutamente sì perché credo che pochi udinesi si ricordino o sappiano che a Udine esisteva una fabbrica di carte da gioco in che periodo è stata attiva? tra il 1842 e il 1915 come posso ben leggere dal retro della scatola negli ultimi anni anche tanti genitori lo sanno ci sono state delle carte seguitissime dai più giovani anche con delle regole molto specifiche molto articolate non semplici da comprendere c'è stata un'evoluzione anche in tal senso del gioco non da poco comunque sempre apprezzata sì parliamo delle giochi di carte collezionabili che parte al fine degli anni degli anni 90 con Magic che è un po' forse sconosciuto di più diventate poi famose con Yu-Gi-Oh e i Pokémon che sono quelle che adesso vanno per la maggiore tra gli adolescenti come se lo spiega questo fascino delle carte costante? beh perché è un gioco di facile utilizzo un mazzo di carte facile da tenere in tasca da portare in giro ci può giocare in due quindi ha una comodità anche da un punto di vista della praticità del gioco in sé e comunque è un'interazione molto alta e come dicevamo prima appunto un mazzo di carta in tasca occupa poco spazio e di solito le regole sono anche semplici e veloci da giocare e poi ce ne sono di tanti tipi diversi esatto e a questo proposito abbiamo visto nel servizio queste carte che raccontano un pezzo di storia della nostra Udine ma ce ne sono tante di regionali diciamo che l'Italia a proposito di patrimonio culturale ha proprio un patrimonio culturale unico al mondo nel settore delle carte da gioco perché ha una ventina di tipi di mazzi regionali diversi che purtroppo in realtà stanno gradatamente vengono gradatamente soppiantati dalle carte internazionali perché si fanno sempre meno i giochi tradizionali la scopa il 3-7 la briscola però la cosa interessante era che ognuno ogni area gioca con le sue carte qui a Udine mi pare si giochi con le triestine con le trevigiane perché con le triestine non c'è un rapporto preferiscono le trevigiane anche se trieste forse sarebbe più vicina però mi ricordo per esempio una volta abbiamo organizzato un torneo di briscola e alla fine c'era una coppia veneta contro una coppia siciliana e insomma li avevamo fatti giocare con le napoletane esatto erano metà strada era un masso che nessuno dei due era abituato però quindi anche tutta l'iconografia la storia dei semi la diffusione dei mazzi insomma c'è storia dietro e non ci sono solo i giochi in scatola degli ultimi decenni e noi intendiamo studiare il gioco anche dal punto di vista storico e quindi giochi che si facevano nel medioevo o prima per esempio il Beghemon ha una storia preistoria che risale all'epoca predinastica egiziana quindi di circa 5.000 anni quindi voglio dire ce ne sono cose da scoprire da studiare poi vogliamo anche nel 2018 porremo particolare attenzione al rapporto tra il gioco e la letteratura cioè a tutta la letteratura che ha parlato di giochi quindi cercheremo di fare una catalogazione di tutti i romanzi o opere letterarie che trattano di giochi già Dante nella Divina Commedia nel sesto canto del Purgatorio parla di un gioco di dadi e ne parla in modo meraviglioso che nessun altro forse è riuscito a eguagliare insomma c'è davvero tanto materiale da analizzare da approfondire da studiare ed è poco conosciuto è poco è poco conosciuto sicuramente insomma tanto lavoro all'orizzonte magari ci ritroveremo tra qualche mese per vedere i primi risultati quando sarà pronto il portale il software anche per accedere appunto a questo archivio italiano dei giochi che ricordiamo si trova negli locali dell'ex Macello in via Sabadini a Udine io ringrazio Dario De Toffoli il coordinatore di questa iniziativa per essere stato con noi grazie anche a Maurizio Maurizio non ci sono ultime ore importanti no non ci sono ultime ore importanti vi ricordiamo l'appuntamento con pomeriggio calcio l'allenamento anche questa settimana è alle 11 ma vi daremo un'ampia finestra su quello che è successo proprio in mattinata grazie a Maurizio grazie anche a Fabio Di Bernardo Emanuele Sergi oggi in regia a tutti voi che ci avete seguito ci rivediamo domani alle 7 per una nuova puntata di Buongiorno Friuli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti